Il peccato è un'offesa contro la verità. Nella sua lettera ai Romani citata sopra, San Paolo identifica la verità con la potenza eterna e la natura divina di Dio che sono rivelate nella sua creazione e che obbligano l'uomo a onorarlo e a rendergli grazie. San Paolo parla di coloro i quali per la loro malvagità sopprimono la verità e che hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa, mentre si dichiaravano sapienti sono divenuti stolti. Queste ottenebrazioni della mente è esemplificata chiaramente nell'incapacità di vedere che il primo fine della sessualità è la procreazione, nel campo della sessualità e dell'aborto esemplificata nell'incapacità di apprezzare la dignità della persona, nel campo dell'aborto in particolare esemplificata nell'incapacità di vedere che il non nato è un bambino, anche di fronte all'innegabile evidenza fotografica o dopo la partecipazione alla sua violenta e brutale distruzione. Il significato cede alla passione, o come il cardinale Ratzinger dice nel Ratzinger Report, la ragione oggettiva cede alla ragione soggettiva, cioè alla libido dell'individuo. Si intraprendono relazioni sessuali, a prescindere dall'età o dal sesso della persona. Dove c'è una possibilità di concepimento c'è tipicamente un ricorso a misure contraccettive se queste falliscono all'aborto adottato come una soluzione di ripiego, come il cardinale Ratzinger nota nella vita umana sotto minaccia. Le due caratteristiche ulteriori del peccato che esporremo sono intimamente connesse con l'opera del demonio, così che le introdurremo attraverso un breve esame del suo ruolo nel peccato. Il demonio, nel suo odio per Dio, nato dalla superbia e dall'invidia, trovandosi incapace di attaccare Dio direttamente, assale il suo corpo mistico e quella creatura formata a sua immagine e somiglianza, la quale è vulnerabile al suo attacco, cioè l'uomo. Il suo proposito è la morte eterna dell'uomo che egli tenta di raggiungere, inducendo l'uomo al peccato. Attraverso di lui il peccato è entrato nel mondo e ogni peccato successivo è occasionato da lui, dai suoi angeli e dall'uomo stesso in gran parte a causa della sua natura caduta. Segni dell'opera del demonio sono, iteralia, l'ampio raggio e la natura sistematica di una determinata forma di peccato, come può chiaramente essere visto nei campi considerati in questo libro. INGANNO Ora, mentre l'uomo è creato per la vita e la felicità, il peccato induce, come abbiamo richiamato, alla morte e al tormento. Questo spiega perché il peccato è un'offesa contro la ragione e la verità. Spiega anche perché un agente che desidera sedurre l'uomo verso il peccato deve prima ingannarlo, ossia con la bugia della tentazione, l'oggetto della quale sembra essere buono, un diletto per gli occhi, quando in realtà il suo frutto è la morte. Il demonio dunque, per perdere l'uomo, lo inganna e per questo si chiama l'ingannatore o colui che seduce tutta la terra. Nelle parole del Signore stesso, non ha perseverato nella verità perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, poiché è menzognero e padre della menzogna.